Ciao Gali, posso farti complimenti per la musica? Grazie, grazie mio Vuoi dare un consiglio su di interfaccio oggi nel mondo della musica? Tiktok. E fare musica senza fare video? No, perché faccio i tiktok Non fare video Faccio i tiktok alle macchine in Montenappo Posso metterlo? No, fai tiktok alle macchine in Montenappo